Tanti gli amici e i colleghi che hanno partecipato ai funerali di Maria Panzini, la capotreno 61enne che ha perso la vita nell'incidente ferroviario, avvenuto il 28 novembre scorso a Turio, nel comune di Corigliano Rossano. Dopo lo scontro del treno contro un camion, rimasto fermo sui binari al passaggio a livello. Un pensiero va anche a Said, l'altra vittima dell'incidente ferroviario di martedì sera. Il cordoglio è stato espresso anche dalle istituzioni presenti in chiesa, con il presidente del Consiglio regionale Mancuso e il sindaco della città di Catanzaro, Nicola Fiorita. Sul feretro, il cappello da capotreno, simbolo dell'amore di Maria per il suo lavoro. Nel giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino a Catanzaro, città di origine della donna. Tanto dolore, ma anche rabbia, alle essequie celebrate da Don Ivan Rauti, parroco della chiesa di Santa Teresa Gesù Bambino, che raccoglie la tristezza di un'intera città. Il dolore dei familiari è della figlia Valeria, che con la voce rotta dall'emozione, dice che quella di sua madre è una perdita insopportabile. Presenti anche i colleghi di Maria, indivisa da ferroviere, hanno scortato il feretro e le hanno reso omaggio con un lungo suono di fischietti, prima del suo ultimo viaggio. Applausi Grazie Grazie Grazie